L'unico momento in cui qualcuno è legittimato a guardare una persona dall'alto in basso è quando deve aiutarlo a sollevarsi. Lo ha sottolineato Papa Francesco celebrando la messa a Santa Marta. Nel corso dell'omelia, incentrata sulla parabola del buon samaritano, il pontefice ha rimarcato che Gesù Cristo è venuto tra noi per guarirci e salvarci, un mistero di carità e misericordia che si riesce a comprendere solo nel servizio. Troppo spesso invece l'abitudine è girarsi dall'altra parte e non dare attenzione a chi si trova nel bisogno. Un atteggiamento molto abituale fra noi, guardare una calamità, guardare una cosa brutta, passare oltre e poi leggerla sui giornali un po' dipinti dello scandalo o del sensazionalismo. Invece questo pagano, peccatore, che era in viaggio, vide e non passò oltre, ebbe compassione. Gli atteggiamenti Luca descrive bene. Vide, nebbe, compassione. Lì si fece vicino, non si allontanò, si avvicinò. Gli fasciò le ferite, lui, versandogli olio e vino. Ma non lo lasciò lì, ho fatto il mio ma me ne vado, no. Gli fasciò le ferite, lui, versandogli olio.